La proposta di riforma della legge elettorale presentata dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio incassa un altro no. Quello del presidente dell'Ali Abruzzo, Autonomie Locali, Giacomo Carnicelli, ex sindaco di Torni in Parte, e attuale presidente del Consiglio Comunale dello stesso Comune. Una riforma che in settimana comincerà a muovere i primi passi nella Commissione Statuto, ma il fronte del no si allarga. Essenzialmente per una ragione di metodo e una ragione di merito. Nel metodo perché è inusuale che una riforma così importante venga presentata a firma del solo presidente della giunta regionale. E poi soprattutto in questo momento in cui le autonomie locali sono impegnate nella grande sfida del PNNR, del mettere velocemente a terra le risorse e quindi abbiamo bisogno più che altro di un'assistenza da parte della nostra regione. Nel merito perché, tralasciando una serie di tecnicismi sul quale non mi esprimo, ci sono due grosse ragioni. La tripla preferenza di genere rischia di penalizzare ancora una volta l'accesso alla carica di consigliere regionale delle donne. Ricordiamo che attualmente sono meno del 20% gli scranni del consiglio occupati da donne. E soprattutto l'istituzione del collegio unico rischia di penalizzare la rappresentanza dei territori meno densamente popolati. Perché sappiamo bene che una lista unica potrebbe tendere a cercare il candidato nelle aree più densamente popolate. Quindi non capiamo perché fare una riforma in tal senso, tanto è vero che non ci sono problemi di stabilità. A mia memoria non ci sono stati ribaltoni nella regione. Quindi siamo un po' disorientati, ecco la parola giusta. Ma quello di Carnicelli non è l'unico no. Sulla stessa lunghezza d'onda si sono espressi già il PD e a quanto pare anche pezzi del centrodestra come la Lega, che non approva il collegio unico, che invece sarebbe ben visto dalla Marcozzi e dal suo impegno civico. La riforma prevede però anche altri aspetti. Più candidati nelle liste, tripla preferenza di genere, sistema proporzionale e ingressi in emiciclo, anche del candidato presidente che arriva terzo.